Dopo l'allarme a mianto lanciato dai residenti della zona dell'ex mercato Orto Frutticolo ad Arezzo, prendono avvio i lavori di messa in sicurezza dell'area che aveva subito ingenti danni, a seguito della violenta grandinata del forte evento che lo scorso mercoledì aveva messo in ginocchio la città. L'evento di mercoledì scorso ha compromesso ulteriormente un'area che già non versava in buono stato di manutenzione, in particolare le coperture in cemento a mianto hanno creato qualche problema perché in parte sono finite a terra, sia nell'area qui interna all'ex mercato Orto Frutticolo, sia lungo la strada. Abbiamo quindi deciso di iniziare preventivamente questi lavori che erano stati programmati per quando saremo partiti per il recupero complessivo dell'area, però vista la situazione e le insistenti richieste dei residenti che comprendiamo e alle quali vogliamo andare incontro, abbiamo deciso di partire già oggi con la bonifica totale di questi circa 6.000 metri quadrati di coperture in cemento a mianto che verranno in parte rimossi complessivamente come l'area sopra alla nostra testa e in parte verranno invece ricoperte le zone con una copertura provvisoria. Un intervento da circa 100.000 euro che dovrebbe concludersi nell'arco di una decina di giorni. Noi abbiamo già attivato i piani di lavoro per solo la uso dei competenti, stiamo ora organizzando il cantiere per poter poi iniziare a bonificare tutti i pezzi di amianto che sono dispersi nel piazzale e poi con delle attrezzature specifiche stiamo giù, è la roba che è rimasta nei tetti e impacchettiamo come è previsto per legge. Rimane ancora da scrivere il futuro dell'area anche se ci sarebbero già alcuni progetti per la restituzione della zona alla città. Stiamo parlando in regione, ne abbiamo parlato non più tardi di un mese fa, abbiamo trovato una discreta apertura per la riassegnazione di questi fondi che sostanzialmente erano andati persi, quindi stiamo ridiscutendo l'accordo di programma. Speriamo nel giro di un altro mesetto di arrivare a conclusione e quindi di poter comunicare alla città che andremo avanti con il recupero complessivo di quest'area e quindi la restituzione alla città di una importante area ma soprattutto il recupero da un degrado che ormai va avanti da diversi anni.